Buon pomeriggio a tutti. Prendetemi un po' come una parentesi in queste giornate perché il mio intervento sul lavoro prenderà una prospettiva un po' differente e cioè noi interrogheremo un tipo particolare di lavoro, lavoro difficile, tortuoso, che è il lavoro del lutto, quello che Freud chiama il lavoro del lutto, perché effettivamente di fronte al trauma della perdita noi possiamo distinguere, come cercherò di fare oggi con voi, due forme del lutto. Da una parte c'è il lutto inevitabile come reazione affettiva, emotiva, psichica nei confronti del trauma della perdita, ma c'è anche la possibilità di fare un lavoro su questa ferita, c'è anche la possibilità di trasformare il trauma della perdita. È per questo che Freud quando parla del lutto come lavoro usa una parola tedesca che è Arbeit, che è la stessa parola con cui Hegel e Marx per esempio parlano del lavoro. Quindi il lavoro come una prassi, come una pratica che trasforma per Hegel e Marx la forma del mondo e per Freud, come cercheremo di vedere, trasforma invece il trauma della perdita in una nuova linfa per la vita. E questo è quello che mi interessa e proverò a mostrarvi, come possiamo fare del trauma della perdita linfa, nuova linfa per la vita. Intanto cominciamo col dire, c'è tutta una prima parte del percorso che io devo fare per forza, è molto difficile, molto difficile emotivamente, però bisogna farla. Cioè bisogna parlare della morte, bisogna parlare di qualcosa di cui il nostro tempo evita di parlare. Siamo uno dei pochi paesi occidentali che per esempio non ha una legge sul fine vita, una barbarie. ma questo ce la dice lunga sul fatto che il nostro tempo scansa il pensiero della morte. Allora, se voi pensate ad un'ape, ad un fiore, ad un cane, a un filo d'erba, tutti questi organismi viventi sono destinati, dalla legge del tempo, dalla legge della natura, a perire. Perisce l'ape, perisce il cane, perisce il fiore, perisce il filo d'erba. Ma dovremmo aggiungere che non muoiono, cioè che nessuno di questi organismi viventi fa effettivamente esperienza del trauma della morte. La sola forma di vita che fa radicalmente esperienza del trauma della morte è la forma umana della vita. Per questo, per esempio, Simone de Beauvoir diceva che la morte di un essere umano, al di là della sua età, quindi anche di un grande anziano, la morte di un essere umano è sempre prematura. Che cosa significa che la morte di un essere umano è sempre prematura? Cioè viene sempre troppo presto, in anticipo, sfasata, perché vorremmo tutti vivere ancora. Perché la vita vuole vivere, lo diceva Anna Arendt con delle parole che contestavano Heidegger, il suo maestro, cioè l'essere umano, gli esseri umani, noi non siamo fatti per morire. Noi siamo fatti per vivere, per vivere, per vivere innumerevoli volte. Al tempo stesso, sebbene noi siamo fatti per vivere, per ricominciare, per vivere ancora, l'ascia della morte interrompe la vita, rendendo questo evento, l'evento della perdita, un evento traumatico, un evento innaturale, un evento, diciamolo pure, ingiusto. C'è una ingiustizia nella morte, che non sperimenta la formica, non sperimenta il cane, non sperimenta la foglia che d'autunno si stacca dall'albero. C'è un detto che è diventato anche un detto molto popolare, ma che in realtà ha un'origine nobile nella Torah, nell'antico, il cosiddetto Antico Testamento. In uno dei grandi libri dell'Antico Testamento, noto come l'Ecclesiaste o Coelet, si dice in questo libro che i nostri giorni su questa terra sono contati, che ciascuno di noi ha i giorni contati, che ciascun, dice Coelet, essere vivente ha i giorni contati. Potremmo dire che lì ha la foglia, l'ape, la formica, il cane, ma qual è la differenza? Che noi li contiamo. Non li può contare il filo d'erba, non li può contare l'ape, non li può contare il cane. Noi contiamo i giorni che mancano. Per farvi sorridere dovrei citare, ma non lo faccio per ragioni di tempo, una bellissima scena di un film di Moretti, la teoria del metro, ma diciamo, la evoco per chi se la ricorda. Più noi viviamo, più il nostro tempo si accorcia, fatalmente, irreversibilmente. Quindi la morte non è per la forma umana della vita l'ultima nota che chiude la melodia dell'esistenza, una formula di Heidegger. La morte non è l'ultima nota, l'ultima parola che chiude la frase dell'esistenza. La morte è presente dall'inizio. Noi cominciamo a morire col primo respiro, il metro si accorcia dal primo respiro. La morte non ci attende alla fine. La morte, dice anche Heidegger, è una imminenza sovrastante, cioè ci accompagna come un'ombra, costantemente. Noi contiamo i nostri giorni. E allora in questo contesto dobbiamo collocare l'esperienza del lutto, il trauma del lutto, con un'aggiunta però, che quando Freud parla del trauma del lutto, quindi del trauma della perdita, c'è trauma della perdita quando la perdita è irreversibile. Non facendo però solo riferimento all'esperienza della morte. Cioè è chiaro che quando qualcuno dei nostri amati, amici, dei nostri cari genitori, familiari, entra nel regno dei morti, noi lo perdiamo irreversibilmente. Roland Barthes, che ha scritto uno dei libri più belli sul lutto dedicato a sua madre, titolato Lei non è più qui, dice che ogni volta che noi facciamo esperienza della morte, le ali, le ali nere del definitivo avvolgono chi non c'è più. Cioè non è più qui. Non potrò più vederla camminare nella casa che condividevamo insieme. Non potrò più sentire la sua voce. Non potrò più sentire il profumo del suo corpo. Lei non è più qui. Perdita irreversibile. Ecco la parola chiave che Barthes mette in luce. Definitiva. Allora, è chiaro che questo accade quando facciamo esperienza della morte, ma accade anche, e questo è un tema politico su cui vorrei tornare, spero, oggi, accade anche quando naufraga, per esempio, un grande ideale. Quando un ideale, pensate a cosa ha significato per una moltitudine di persone, il crollo nel muro di Berlino. È un'esperienza traumatica della perdita. Un grande ideale che ispirava la vita delle masse. Un ideale di riscatto, di giustizia, naufraga, irreversibilmente. Ma facciamo anche esperienza della morte quando un progetto a cui abbiamo dedicato la nostra vita fallisce, diventa impossibile, dobbiamo rinunciare. O accade ancora di più con l'agonia la fine di un amore. La perdita di un amore è un'esperienza radicalissima del lutto. O il tradimento di un amico. La perdita di un'amicizia. In tutte queste scene che stiamo mettendo insieme, diverse tra loro, il denominatore comune è il fatto che facciamo esperienza di una perdita irreversibile e traumatica. E che tra il regno dei vivi e il regno dei morti non c'è alcun punto di contatto. Non esiste un ponte che consenta il passaggio tra chi è ancora qui e lei che non è più qui. E' per questo che potremmo dire, correggendo Aristotele su questo punto, che l'essere umano non è solo un essere sociale, un animale sociale. Certamente è un animale sociale, come Aristotele ci insegna. Ma è anche l'unico animale, se ci pensate, che prega. Che ha sempre pregato. Dall'origine della vita, della vita umana sulla terra, la preghiera è stata una pulsione dell'umano. Ha pregato sempre gli dèi. Cioè ha costruito, e questo è un passaggio antropologico fondamentale, che cosa rende la forma, che cosa rende umana la vita? Due grandi passaggi antropologici, no? Uno studiato da Levi-Strauss, dal crudo al cotto, fuoco. Le vivande vengono cotte, l'umano si emancipa dalla immediatezza dell'istinto animale. Ma il secondo grande rito che ha umanizzato la vita è il rito della sepoltura, che non troviamo nel mondo animale, né nel mondo vegetale, ovviamente, no? Il rito della sepoltura. che cosa significa? Preservare un punto di contatto. Come quando si va ai cimiteri e si incontra qualcuno che chiede dov'è la mia mamma? Vado a trovare la mia mamma. Vado a trovare il mio papà. Come dire nell'urna confortata del pianto è forse il sonno della morte menduro? Se c'è qualcuno che deve fare la maturità si ricorda che questo è foscolo e sepolcri, no? È chiaro che no. L'urna confortata dal pianto non ci salva dalla constatazione della atrocità della morte e della perdita. Ma gli umani hanno pensato al sepolcro come un punto di contatto tra l'aldiqua e l'aldilà, diciamo. Ma non solo. Pensate anche ci sono culture animistiche, spiritistiche che hanno immaginato possibili contatti tra l'aldilà e l'aldiqua. macchine strambe che catturano le voci dell'aldilà. Gli esseri umani hanno sempre cercato di immaginare che cosa possa esserci al di là di addirittura intercettare segnali. Lo spiritismo per esempio, no? Ripeto, la costruzione anche di macchine, le sedute spiritiche è un modo per colloquiare con chi non è più qui. È chiaro che dal punto di vista della psicanalisi sono sforzi inutili di questi. Il problema che noi abbiamo di fronte è cosa possiamo farne di questa assenza irreversibile. Allora, su questo vi indico solo due prime risposte che agli occhi della psicanalisi sono due risposte entrambe diciamo così patologiche per poi per poi parlarvi del lavoro del lutto che è il vero compito che ci attende ogni volta che noi siamo di fronte alla fine di qualcosa alla fine all'esperienza irreversibile della fine la prima reazione patologica lo dico con tutto rispetto e non per etichettare clinicamente soprattutto parlando di quello di cui vi comincio a parlare ora la prima risposta tra virgolette patologica è di chi non accetta l'assenza e rifiuta di prendere atto che lei non è più qui questo rifiuto del lutto diciamo così questa esperienza radicale del lutto lei non è più qui che porta ad una sorta di capovolgimento del lutto per cui non accetto che lei non è più qui nella misura in cui sono obbligato a constatare che lei davvero non è più qui viene un signore a parlarmi della sua amatissima moglie scomparsa tempo fa è un professionista è un uomo diciamo solido psichicamente piange tutta la seduta ininterrottamente come se fosse un bambino e ad un certo punto cerco di dirgli qualcosa per fermare la cascata di questo pianto e gli chiedo ma quando è morta e lui dice vent'anni fa ecco questo è un primo elemento importante della reazione melanconica del lutto cioè il tempo si arresta si pietrifica si immobilizza il soggetto si confonde con l'oggetto perduto l'assenza dell'oggetto perduto è il modo è il modo attraverso cui l'oggetto perduto continua ad essere presente l'assenza diventa una forma radicalissima della presenza non posso far altro che pensare alla sua assenza ma se penso alla sua assenza l'assenza diventa una forma radicale della presenza lei è ancora qui è ancora qui nella forma dell'assenza è il dramma è il paradosso se volete della reazione melanconica certo abbiamo un esempio abbiamo tantissimi esempi ma uno conosciutissimo la regina vittoria quando perde il principe Alberto non solo da quel a circa 40 anni non solo da quel momento in avanti si vestirà sempre di nero sapete che il nero è il colore del lutto perché è il colore della fine del mondo è il colore della fine dei colori del mondo è il colore del fatto che i colori del mondo si sono spenti nero quindi non solo si vestirà da lì in avanti sempre di nero ma darà ai suoi servitori la consegna paradossale di preparare sul letto del principe ogni giorno vestiti nuovi come dire lui non è più qui ma il discorso melanconico è un modo per continuare a rendere presente chi non è più ed è chiaro che questa presenza ostruisce la vita occupa la vita lo dice bene con delle parole luminose come spesso accade un paziente i psicanalisti imparano dai loro pazienti che sono i veri maestri diciamo da cui noi impariamo un mio paziente che parla di un amore finito tragicamente in cui lui è stato abbandonato e non riesce a sollevarsi da questo lutto e mi dice dottore sai io sono ecco le sue parole precise ingombrato dalla perdita cioè mentre la perdita dovrebbe essere uno svuotamento quando la perdita diventa un ingombro vuol dire che l'altro che noi abbiamo perduto è ancora qui che la sua esistenza è come un'ombra che copre la nostra vita per questo Freud dice nella melanconia l'ombra dell'oggetto perduto chi non è più qui cade sull'io e dunque rende impossibile l'avvenire rende impossibile il futuro rende impossibile la progettualità rende impossibile un nuovo amore rende impossibile quello che Arendt diceva ricominciare a vivere il melanconico vive la vita di un soggetto che è già morto quindi potremmo dire che nella melanconia non c'è lavoro del lutto ma c'è cronicizzazione del lutto che non è più uno stato transitorio ma diventa una condizione di vita permanente lei non è più qui se volete i vagabondi di Samuel Beck aspettando Godot incarnano la posizione melanconica Godot non c'è Godot non arriverà mai ma Godot è sempre presente e condiziona paralizza le possibilità di movimento della vita di questi due vagabondi questo è l'inciampo melanconico del lutto cioè un lutto che diventa cronico si cristallizza si pietrifica vi voglio fare un altro esempio forse un po' più purtroppo drammatico di questa identificazione melanconica all'oggetto perduto lo faccio molto rapidamente una giovane donna che una giovane donna assiste all'agonia della propria madre travolta da una malattia mortale e accompagna con grande cura e dedizione la madre verso la morte negli ultimi giorni di agonia descrive il corpo della madre come pelle ed ossa che cosa accade a questa ragazza questa giovane donna accade ed è questa una delle ragioni che la spinge da me accade che nel giro di pochi mesi sviluppa una gravissima forma di anoressia che la rende pelle ed ossa e dunque il suo corpo pelle ed ossa non è altro che è l'effetto della identificazione alla madre morta ma dunque la madre non è morta la madre continua a vivere l'ombra dell'oggetto cade sull'io continua a vivere attraverso l'identificazione inconscia del soggetto all'oggetto perduto vado avanti se no non abbiamo il tempo di fare tutto il giro che vorrei fare con voi l'altra reazione è la reazione maniacale quando noi in psicanalisi usiamo reazione maniacale usiamo questo termine per dire che il soggetto reagisce al trauma della perdita negandolo la maniacalità è una forma estrema di negazionismo non era così importante non è accaduto nulla la vita ricomincia ricomincia subito adesso non è necessario dedicare tempo memoria a chi non è più qui la vita continua il nostro tempo suggerisce costantemente reazioni maniacali nei confronti del lutto la maniacalità toglie al lutto il suo peso il soggetto maniacale non vive il dolore della perdita si scopre per esempio al funerale essere indifferente a quello che accade e immediatamente si precipita a sostituire l'oggetto perduto con altri oggetti la maniacalità è una procedura di sostituzione dell'oggetto perduto con altri oggetti per evitare il dolore inevitabile del lutto in questo senso io dico che il discorso contemporaneo diciamo è un discorso profondamente maniacale che ci sospinge a quella iperattività che evita la pausa necessaria del lutto il dolore del lutto la maniacalità è il rovescio della melanconia è quello che i psichiatri chiamano disturbo bipolare nella melanconia noi abbiamo tristezza abbiamo perdita di vitalità assenza di desiderio nella maniacalità abbiamo euforia divertissement abbiamo appunto la girandola degli oggetti l'una tende a difendersi dall'altra la mania è la difesa più radicale nei confronti della melanconia però la mania resta come dire il polo nord del polo sud della melanconia è una trappola drammatica quella della mania pensate che c'è anche una mania collettiva pensate a come per molto tempo è stato trattato l'evento della Shoah è esistita anche una branca diciamo della storiografia contemporanea che ha voluto negare l'esistenza della Shoah cioè negare il trauma la negazione del trauma appartiene all'umano quando il trauma è troppo violento quando ci costringe a fare dei conti radicali con noi stessi con gli altri noi tendiamo a evitare il riconoscimento del trauma è accaduto anche recentemente con la pandemia i morti di Bergamo non esistono è tutta una speculazione delle grandi industrie farmaceutiche il virus è un'invenzione di virologi asserviti al potere economico negazionismo è sempre il tentativo maniacale come dire di ridurre l'impatto col trauma e queste due sono diciamo alternative che noi dobbiamo provare a rigettare per seguire il cammino del lavoro del lutto come lavoro e allora per darvi proprio un'idea rapida ma insomma spero precisa di che cos'è questo lavoro che siamo obbligati a fare questo lavoro ha alcuni elementi necessari il primo elemento necessario del lavoro del lutto è il dolore è una constatazione apparentemente ovvia ma non è ovvia bisogna sentire dolore il dolore non è il dolore di un arto non è il dolore localizzato in una parte del corpo è il dolore della mia stessa esistenza è la mia esistenza che soffre perché perché noi abbiamo perduto un oggetto un amore un ideale un legame che dava senso al mondo quindi la perdita quando si rivela traumatica non è solo la perdita di una persona o la perdita di un ideale ma è la perdita di quella persona e di quell'ideale che dava senso al mio mondo dunque la perdita di un intero mondo e per questo comporta lo svuotamento di me stesso il mondo non è più come prima non è più come lo amavo non è più come lo conoscevo sono senza mondo dicevo mio paziente parlando della propria compagna scomparsa non ho più un luogo dove stare come se la propria compagna assomigliasse a un paese ed è vero ed è vero per chi ama il proprio partner è un paese è il suo paese è un paese che ha imparato a conoscere la geografia del corpo la geografia degli affetti se io perdo quell'oggetto perdo un luogo dove poter stare non ho più un luogo dove stare ma attenzione il professore che c'è in me cercherebbe una lavagna per fare questo è uno schema se noi mettiamo qua il tempo della perdita il trauma della perdita noi dobbiamo mettere qua l'esperienza della separazione cioè perdita e separazione non coincidono c'è un lasso di tempo che separa la separazione dalla perdita chiamiamo lavoro del lutto quel tempo necessario per trasformare la perdita in separazione ma quando noi per esempio congediamo una persona cara in un funerale perdita ma non c'è ancora separazione non ci può essere separazione vorremmo restare col morto vorremmo entrare nella buca vorremmo continuare a stringere le mani c'è perdita ma non c'è separazione tra il tempo della perdita uno e il tempo della separazione tre c'è in mezzo due il lavoro del lutto allora il lavoro del lutto è quel lavoro che implica il dolore della perdita che deve essere elaborato per consentirci di tornare a vivere e quindi di separarci da chi abbiamo perduto tornerò su questo punto cosa vuol dire separarci da chi abbiamo perduto però è chiaro il punto quindi il dolore è in questo tempo di mezzo potremmo dire tra il tempo della perdita e il tempo della separazione non ci può non essere dolore non esiste il lavoro del lutto in dolore nella mania c'è l'illusione di rendere in dolore il lavoro del lutto c'è l'illusione di anestetizzare il dolore secondo elemento ci vuole tempo tra la perdita e la separazione c'è un tempo necessariamente un tempo quanto lungo chiedono a volte i pazienti quanto ci metterò a dimenticarla quanto ci metterò a tornare a vivere ci vuole un tempo sappiamo che non è un tempo breve non è un istante la maniacalità è l'illusione che vi sia lutto in dolore e rapido altro elemento del nostro tempo la rapidità non stare a pensare a chi non è più qui non stare a pensare all'assenza ciò che conta è la presenza non stare a pensare a chi c'era prima di te cioè il nostro tempo è tutto focalizzato sulla presenza e non ha pensiero dell'assenza mentre le nostre vite sono circondate dall'assenza dai nostri innumerevoli morti per esempio allora ci vuole tempo ci vuole dolore per passare dal punto 1 al punto 3 attraverso il punto 2 ma soprattutto ci vuole ecco uno degli elementi fondamentali che caratterizzano il lavoro del lutto ci vuole memoria quando un soggetto è impegnato in un lavoro del lutto che cosa fa ricorda ma non ricorda quello che vuole ricordare non solo quanto meno ma ricorda quello che la sua memoria gli impone di ricordare e quindi basta un momento per cui la vedo per strada non è più qui eppure ho una illusione percettiva mi sembrava fosse lei o la vedo ancora a camminare per casa o vedo i suoi oggetti il suo bastone la sua pipa i suoi libri i fogli sparpagliati sulla sulla cattedra la sua voce eppure non è più qui ma noi siamo obbligati ad attraversare questo cimitero dei ricordi diciamo così e perché questo avvenga ci vuole dolore tempo memoria sono tre elementi fondamentali di ogni lavoro del lutto e poi quando finisce quando la vita torna a vivere quando possiamo ricominciare a vivere allora su questo potrei citarvi tante cose ma oggi voglio citarvi solo una delle più belle descrizioni almeno ai miei occhi del lavoro del lutto che troviamo in Nice in uno dei suoi libri più importanti così parlò Zarathustra per chi ha in mente uno dei primi capitoli di questo libro è dedicato all'acrobata la storia è questa Zarathustra è appunto Nice stesso che fa esperienza di una nuova visione della verità e di che cosa l'uomo potrebbe essere nella sua vita eremitica e una volta scoperta la verità e scoperto che cosa l'uomo potrebbe essere l'Ubermensch l'uomo al di là dell'uomo scende a valle per predicare diciamo così questa verità predicare la verità dell'Ubermensch dell'oltre uomo e si trova in una piazza dove un'acrobata si sta esibendo sulla fune Zarathustra lo guarda e pensa ecco cos'è un uomo noi siamo tutti sulla fune i nostri giorni sono contati noi contiamo diversamente dall'ape dal filo d'erba dal coniglio i giorni siamo tutti su una fune la vita umana è una vita che non ha fondamento se non sulla sua libertà la libertà di non cadere di non precipitare di restare in bilico l'abilità di restare in bilico camminare sulla fune è il destino acrobatico che accompagna la vita umana come tale siamo tutti su quella fune quindi Zarathustra stesso lui è su quella fune e che cosa accade che mentre l'acrobata sta muovendosi pericolosamente sulla fune sbaglia in ciampa cade precipita terra e resta moribondo a terra a quel punto tutta la gente che assisteva allo spettacolo fugge e solo Zarathustra in alcuni passaggi memorabili di questo testo si avvicina al corpo moribondo dell'acrobata e l'acrobata aspira tra le braccia di Zarathustra quindi abbiamo il trauma della perdita la vita umana che cade nella buca che è il mestiere dello psicanalista cioè noi come lavoro raccogliamo soggetti che cadono nelle buche acrobati caduti questo fa Zarathustra questa è l'esperienza della perdita non della separazione perché la sua risposta alla caduta dell'acrobata è prendere l'acrobata metterselo sulle spalle portarselo dietro dove in un lungo attraversamento di notte in un bosco solo dove non c'è luce abbiamo questa rappresentazione straordinaria del lavoro del lutto dobbiamo immaginarcelo un uomo che trascina sulle sue spalle il peso di un altro uomo morto nel fitto del bosco nel buio della notte questo è il lavoro del lutto ci vuole tempo ci vuole dolore ci vuole memoria ma ad un certo punto con l'alba Zarathustra decide che è arrivato il momento di togliere dalle sue spalle il peso dell'acrobata e che cosa fa? lo infila in un tronco di un albero cavo e lo abbandona e torna a vivere ecco questo punto mi interessa farvi vedere mette l'acrobata nel cavo di un albero come se il corpo dell'acrobata fosse diventato linfa per questo albero possibilità di vita per questo albero trasforma il morto in una possibilità della vita quando finisce quando noi possiamo fare di chi abbiamo perduto linfa intanto quando facciamo l'esperienza di essere più leggeri succede ad un certo punto ci svegliamo la mattina sempre col pensiero nella testa lei non è più qui lei non mi ama più lui è morto se n'è andato sono solo ci svegliamo tutte le mattine con nella testa questa assenza impensabile ma ad un certo punto lavoro della memoria lavoro del tempo lavoro del dolore ci svegliamo una mattina e la nostra testa è di nuovo libera si è alleggerita Nietzsche usa delle immagini molto belle su questo in un altro libro prefazione alla Gaia Scienza parla del lutto del compimento del lutto di un lutto che arriva a termine come se fosse il vento di primavera il vento australe il vento che soffia da sud e scongela il ghiaccio dell'inverno la stagione dell'inverno è la stagione del lutto il vento di primavera il vento australe scioglie il ghiaccio e rimette in movimento rimette in movimento la vita il corpo morto dell'acrobata diventa linfa stupenda straordinaria immagine questa come possiamo tradurre ancora meglio però questa immagine io ho cercato di farlo in un mio penultimo libro titolato la luce delle stelle morte ho cercato di farlo evocando questo strano fenomeno astrofisico e cioè il fatto che la luce che noi vediamo brillare nei nostri cieli d'estate proveniente dalle stelle in realtà quella luce che noi vediamo oggi in realtà proviene da corpi celesti morti milioni di anni fa quindi vediamo la luce ma questa luce proviene da corpi morti che cosa vuol dire vuol dire che noi siamo abituati a pensare che la nostalgia di chi non è più con noi di chi abbiamo perduto è uno sguardo rivolto all'indietro il nostalgico allo sguardo rivolto al passato se volete la nostalgia sarebbe una varietà della melanconia il nostalgico è colui che pensa fatalmente non è una critica ai nostalgici il mio corpo non è più quello di quando avevo vent'anni il primo bacio con la sua bocca che sapeva di menta la casa dell'infanzia friulana il profumo delle pesche le prime letture le prime scoperte erotiche tutto questo è alle spalle e uno potrebbe avere la tentazione ha la tentazione di guardare indietro e dire ecco tutto quello che ho perduto irreversibilmente ecco tutto quello che non è più qui abbiamo questa figura straordinaria di Ulisse come nell'odissea america come figura della nostalgia tornare a casa non desidero altro dice Ulisse mentre guarda il mare e tutti noi vorremmo tornare in quei luoghi io l'ho fatto per i miei cinquant'anni ricordo prendo mia madre la mia famiglia andiamo in friuli andiamo a ritrovare i vecchi luoghi della mia infanzia ma non erano più gli stessi o meglio erano gli stessi ma non erano più gli stessi la grande vigna che era nella mia testa erano tre filari il grande fiume dove giocavamo i pirati corsari era un ruscello piccolo infestato da immondizia la casa dei parenti era una piccola casa mentre io avevo nella testa grandi spazi anche se noi tornassimo indietro anche se fosse possibile tornare indietro non troveremmo più quello che non è più qui e invece nella luce delle stelle morte c'è un'indicazione noi dobbiamo guardare avere un'idea della nostalgia al futuro come una visitazione siamo visitati dalla luce portiamo con noi questa luce la luce di chi non è più dovremmo non rimpiangere quello che è stato ma essere grati di tutto ciò che è stato perché tutto ciò che è stato continua diciamo così a illuminare la nostra vita ed ecco perché al rimpianto dovrebbe subentrare senso di gratitudine come guardo se guardo se ripenso a quello che sono stato il bene e il male il bello e il cattivo incontro il giusto e l'ingiusto la fedeltà il tradimento tutto quello che ho vissuto i grandi maestri che ho avuto e quelli che non hanno capito nulla di me tutto questo a tutto questo dovremmo avere la forza di dire di sì che tutto questo è luce è la luce che ha costituito quello che siamo stati e continua a illuminare il nostro percorso in avanti nella vita il nostro continuare ad esistere ecco la gratitudine è gratitudine per tutto ciò che è stato ripeto non solo per le cose belle e buone ma anche per le cose malvagie e cattive dire di sì lo direbbe Nietzsche se fosse qui dire di sì a tutto ciò che è stato volere che si ripeta ancora ecco questo è la soluzione in fondo del dramma del lavoro del lutto il lavoro del lutto ci porta a liberarci dal rimpianto ci porta a trasformare il corpo morto dell'acrobata in linfa grazie grazie